Assessore Masci, proseguono i percorsi sulla legalità, siamo alla quarta edizione, quest'anno l'attenzione è puntata sulla scuola primaria. Sì, quindi non soltanto proseguono, ma noi rilanciamo con i percorsi sulla legalità, perché una nazione come la nostra deve porre particolare attenzione alla legalità, perché ci sono troppi fenomeni che sicuramente costituiscono devianze che noi dobbiamo combattere. Quindi riteniamo che il processo della legalità debba iniziare dai bambini, quindi dalla scuola primaria, quest'anno lo facciamo e lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi attraverso una lettura della Costituzione fatta dai giovani delle scuole medie e superiori, rivolta ai giovani delle elementari. Sì, la Costituzione è viva che ha avuto un grandissimo successo, ma poi proseguono gli incontri con i magistrati appuntamenti oramai cadenzati mensilmente, ne abbiamo fatti quattro nei primi mesi dell'anno, adesso ne faremo altri quattro, questi incontri si faranno nelle scuole. Poi ovviamente il tutto si concluderà con la giornata della legalità che è il 9 maggio, che è la giornata in cui si commemorano tutte le vittime del terrorismo e per noi è la giornata in cui ricordiamo Emilio Alessandrini, un nostro eroe, purtroppo ucciso dalla mano di prima linea, che è sicuramente un simbolo per tutti coloro che credono nella legalità. In questo momento in Italia occorrono segnali importanti e questi segnali noi li diamo attraverso questa iniziativa.